Ciao a tutti tutoretti e benvenuti in questo nuovissimo video Allora qui ho mandato avanti per sbaglio Allora aspettate un attimo se è partita la registrazione E' partita E' partita Ok stoppiamolo a farvi vedere Prima cosa questo faxit In pratica riguarda la La crone Adesso vi faccio vedere un pochettino ma La crone Big X 580 Quella del Contest con la barra davanti da 6 metri Mentre qua il crone TX Che c'era sempre nel 15 Con appunto la parte qua del telo Volerebbe vedere Ecco il riempimento si è stato modificato Perché se vi ricordate Nel 3 Scusate nel 15 Non Non era tutto pieno di morta E non era fantastico Come vedete è stata modificata la texture Del mais E le piante non sono tutte dritte Sono un po' spostate a casaccio E devo dire che come cosa è molto meglio Cioè a parere mio è molto meglio Un po' più realistica Adesso qui intanto finisce L'animazione soltanto qualche numerino Che cambia Non c'è moltissima animazione Qua ecco il JCB con la contadina a bordo Questo vediamo un attimo Se è finito Allora Ok è finito Volevo farvi vedere Eccole qua le specifiche Big X580 E crone Easy Collect 600-2 Appunto da 6 metri E poi ecco il JCB Fast Serie 8000 Che va dai No scusate eh 280 I 310 cavalli E poi il crone TX 560-D Che era già stato fatto nel 15 Comunque vi spiego una cosa Principalmente la Giants Prende le mod un po' migliori Che ci sono state Del 15 E le porta nel farming successivo Più o meno funziona in questo modo Adesso non so se i modelli li ha rifatti o no Però Presto che Cioè il modello è quello È simile Non so se è appunto stato rifatto Oppure l'ha soltanto Texturizzato nuovamente Tutto quanto Per fare un lavoro fatto bene Non avrebbero dovuto rifarlo Però può essere che li ha rifatti Comunque adesso devo cercare un attimo una cosa Da farvi vedere Per il video che Oggi uscito il nuovo gameplay Il gameplay numero 3 Lo fatemi cercare Anche devo cercare la mappa Perché dopo Mi servirà per far Spiegarvi una cosa Qui non c'è ancora Decavoliera No Vabbè dai Se a caso lascio perdere Se vi ricordate C'erano due linee ferroviarie Adesso vediamo un po' Eccole qua Eccola No non è questa Vabbè dai Chi se ne frega In pratica ci sono due linee ferroviarie Una che gira qua intorno E l'altra Eccola Potete vedere Sono queste linee un po' chiarine Vedete Una è questa E l'altra è questa qua In pratica Qui c'è un punto in cui Dopo andremo a vedere bene Cioè andiamo subito a vedere bene Allora Qua è il Gameplay Fatto dalla Giants Life on the Railroad Vita da Vita da Vita in ferrovia sarebbe Come vedete Lì a sinistra c'è un bel New Hall Che non è il T7 Vecchio Nemmeno il T6 Vabbè qui taglia il tronco Molto bello Penso che abbiamo fatto una cosa Che Tagliando Vedete si scortecia Infatti qua non c'è tanta corteccia Qui ecco il T7 315 Heavy duty Con lo stepa Ecco Mentre va Vedete si sposta Come giusto che sia Adesso vediamo la corteccia Ecco vedete Manca la corteccia È stata fatta un'ottima cosa E mi è piaciuto un sacco Allora Poi un'altra cosa da vedere Adesso non ricordo se lo stepa Aveva parafango l'anno scorso Boh C'è nel 2015 Comunque Fa nulla Una cosa che è stata aggiunta Sono le cinghe Adesso andiamo a vederle Perché anche realmente Si mettono le cinghe Magari per chi non lo sapesse Vengono messe Per non far cadere il legname Come vedete Qui ho notato O che è differente il legno Oppure non saprei Vedete Questi hanno i cerchiolini più scuri interni Come alcune piante Mentre questi qua Tipo Gli abeti non ce l'hanno Questo cerchiolino In teoria Non c'è Boh Sarebbe da provare Animazione Non c'è moltissimo Ecco Come vedete Arriviamo qua In stazione C'è stazione In punto di scarico E dovete Scaricare il legname Direttamente sul treno Non so se c'è il punto vendita Nell'acqua Se c'è Penso che sia il più comodo Perché come vedete Dovete fare un sacco di trasporti Il treno Come sempre Lo potete guidare Qui c'è anche una trebbia Sembra la laverda Ma dovrebbe essere La massi Ferguson Ok Il treno arriva qua C'è questa stazione Ok E in pratica Non può più proseguire Questo treno Allora Avete la possibilità Di avere Questa scaletta Salite su un Su un ponte Diciamo Come avevo detto Avevo pensato Che ci fosse Questa possibilità E appunto C'è Le cing C'è i cavi Vanno abbastanza bene Una bella pinza grande Quindi come vedete Ne prende abbastanza Di tronchi Guardate quanti E li scaricate Sopra Nell'altro treno Negli altri vagoni Ok Poi andate un po' avanti E c'è il punto di scarico Adesso vedete Potete scaricare Anche le varie colture Qui c'è il Tino Scusate Il Deus Serie 99 9340 TTV Mi sembrava quasi il 7000 Dal dietro Invece sono uguali C'è pressoché Sono uguali Posteriormente Invece non lo è Con il Yoskin Dakar 8600 Anche questi due Erano delle mod Che c'erano nel 15 Tanto per farvi capire Magari per chi Non ha mai giocato A questo Non ha mai giocato Al 15 Come vedete Eh Riempimento Non sembra al massimo Però è al 76% Su 50.000 litri C'è 36.000 litri Dei 50.000 Quindi Secondo me Almeno mi pare 50.000 Riempimento Non è stato fatto male Qui scarico Non a nastro Bensì a A spinta Diciamo E poi scaricate Lì dentro E poi Ah bella questa cosa Pratico a voi Lo scaricate qua dentro Nel capanno Che lo prende E lo fa Lo manda in alto Penso E poi lo scarica Direttamente Nel vagone Dal treno Vedete C'è cereali Cippato E barbabietole Così Non è affatto male Ecco Il gioco uscirà Il 25 ottobre E devo dire Che non è molto lontano Il 25 ottobre Siamo già Al 30 di settembre Quindi Manca pochissimo Neanche un mese Mettete 25 26 giorni Perché Magari Lo scaricate Così Io me lo sono già comprato Da steam Ci sarebbe Instant gaming Però purtroppo Il mio metodo di pagamento Non era Adeguato Ah ecco Da instant gaming Non potete neanche Mi sembra Mi era stato detto Dalle delle amici E quindi Nulla Io spero che questo video S'è piaciuto E vi ricordo Come sempre Vabbè Prima di tutto Volevo farvi vedere un attimo Che oggi Ecco Non so se succederà Prima questo video Oppure Un altro video Farm expert Magari Giant machine Lo lascio per domani Devo ancora vedere E Farm expert Ve lo porto alle 17 E nulla Io spero come sempre Che questo video Vi sia piaciuto E vi ricordo Di lasciare un bel like Commentare Condividere il video E iscrivervi al canale Se avete ancora fatto Noi ci vediamo Più tardi C'è tutti i toretti E al prossimo video Ciao